2.111 uomini sfilati nella tenenza dei carabinieri di Sansepolcro, 113 campioni biologici prelevati e 20 comparati con quello di ignoto 1. Sono questi i numeri dei primi 50 giorni di indagini senza sosta dei carabinieri del nucleo investigativo di Arezzo e dei militari della tenenza di Sansepolcro alla ricerca dell'assassino di Katia Dello Marino, la 41enne biturgenze ritrovata senza vita e con la testa fracassata sul greto del torrente Afra lo scorso 12 luglio. Sul corpo della donna durante l'autopsia sono state rinvenute delle tracce biologiche dalle quali è stato isolato il DNA di un uomo, ignoto 1. Nei laboratori dell'Università di Pisa quel corredo genetico è stato comparato con il DNA di una ventina di soggetti, tutti provenienti dalla Valtiberina Toscana ed Umbra, tra questi potrebbe esserci proprio quello dell'omicida della donna. I primi esami hanno dato esito negativo, si attendono adesso nuovi confronti che potrebbero condurre gli inquirenti dritti dall'assassino, da quell'uomo che nella notte tra l'11 e il 12 luglio, dopo aver picchiato barbaramente Katia, l'ha uccisa con alcuni violenti colpi alla testa. Intanto le attenzioni degli inquirenti si starebbero stringendo attorno ad una decina di uomini, dita compresa tra i 50 e i 60 anni, residenti nella zona di Sansepolcro e con i quali Katia avrebbe avuto rapporti anche di tipo sessuale. Si tratterebbe di insospettabili persone particolarmente conosciute nell'area biturgenze e che sarebbero state convocate proprio in questi ultimi giorni nella caserma della tenenza di Sansepolcro.